Martínez è felice a L Genoa, domani incontrerò Martínez, sta attraversando veramente un ottimo momento al Genoa? E' molto felice per il rendimento di quest'anno e spera di poter continuare così. Cosa gli ha dato il calcio italiano? Martínez si è formato nel Barcellona, ha avuto un allenatore dei portieri importante così come nell'As Palmas e nell'Ipsia. Arrivare in Italia per lui è stato fondamentale per completare la sua maturazione. Tanti club interessati a Martínez vista la stagione appena disputata, Inter interessata a Martínez. Tanti club sono interessati a lui vista la stagione disputata, chiaramente diversi club europei vogliono capire la sua situazione contrattuale con il Genoa, ad ogni modo Giuseppe è legatissimo al Genoa, sta benissimo in Liguria. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme al Genoa per capire come procedere. Il suo obiettivo è quello di crescere sempre di più, il suo obiettivo? Crescere sempre di più e migliorare. Futuro in Spagna? E' già stato in Liga, quindi al momento non c'è questa necessità. Ovviamente se un grande club spagnolo dovesse chiamarci ne parleremo con il Genoa per intavolare eventualmente una trattativa. . Moschera del Valencia? Bisogna lasciarlo tranquillo. Moschera? Bisognare farlo crescere e lasciarlo tranquillo. Fa parte del progetto del Valencia, siamo ad inizio mercato quindi sappiamo benissimo che le cose possono cambiare entro il termine della finestra di mercato.